Wewe ragazzi e bentornati nel rapporto di stato casa base questa volta del 18 agosto 2020 Dal team di Fortnite comandanti casa base ritorna con un nuovo rapporto di stato Salve comandanti vedo che questa stagione di ventura sulla desolazione devastata terminerà il 4 settembre La prossima stagione ventura inizierà poco dopo portate le vostre torce comandanti E ora torniamo al nostro abituale rapporto di stato La prossima apparizione che vedremo nel gioco sarà Mazza Assalto Tattico Come voi tutti già lo conoscerete abbastanza bene Mazza aumenta i danni critici d'assalto del 75 e del 225% E Mazza sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 22 agosto alle 2 ora italiana fino al 4 settembre Stella Mantata si mette in marcia per la parte 2 il 22 agosto alle 2 ora italiana Stella Mantata torna alla stazione radio per trasmettere la parte 2 della sua canzone dell'estate Carica il furgone e raduna il gruppo è ora di mettersi in marcia con un secondo modificatore per sbloccare Tora Tuono Tora Tuono anch'essa un eroe assolutamente da ottenere I nemici su strutture nel raggio della base subiscono 12,7 e 38,1 come comandante Danni energetici base ogni 5 secondi Ragazzi mi raccomando né Tora né Mazza Assalto Urbano sono eroi assolutamente da farsi scappare Quindi mi raccomando farmate oro sufficienza per potervi permettere tutti questi eroi Mix Scatenato sbarca sul negozio dell'evento Lancia i tuoi mix più roventi con la pistola Mix Scatenato Spara un paio di scariche soniche che trafiggono i nemici La pistola sarà disponibile nel negozio dell'evento a partire dal 29 agosto alle 2 ora italiana fino al 4 settembre Queen si mette in marcia per la parte 3 il 29 agosto alle 2 ora italiana Queen torna alla stazione radio per trasmettere la parte 3 della sua canzone dell'estate Carica il furgone e raduna il gruppo e ora di mettersi in marcia con un nuovo modificatore Per sbloccare oro, biglietti e una nuova schermata di caricamento Appena potete completate le vostre attività nella desolazione devastata comandanti E qui ci lasciano in sospeso Ovviamente ragazzi il consiglio maggiore è quello di arrivare almeno al livello 50 del pass Diciamo nella desolazione devastata Così comunque da non perdersi nessuna ricompensa E questo più o meno ragazzi è quello che succederà nelle prossime settimane Purtroppo comunque è agosto non è che avremo tante novità è quello che è Io comunque vi ringrazio di essere arrivati fino a qui a guardare il video Se avete ulteriori domande potete farmere liberamente qua sotto nei commenti Ci tengo comunque a ribadirvi di non farvi scappare né mazza né tora nel mix scatenato Sia i due eroi che il progetto del mix scatenato sono comunque diciamo cose fondamentali Soprattutto gli eroi diciamo ma anche la pistola è veramente divertente E niente ragazzi per il video di oggi termina tutto qui Noi ci vediamo comunque con il video di domani Che in realtà comunque doveva uscire oggi ma diamo la precedenza al nuovo rapporto di stato casa base Da Kino è tutto? Bella bella! Ciao a tutti! Ciao a tutti!